Bene, eccoci insieme anche oggi. Il periodo delle prime settimane dell'anno è l'occasione per noi per fare il bilancio con alcune attività imprenditoriali del territorio su un anno di lavoro. Con noi quest'oggi c'è Bruno Martino che è il presidente dell'etichettificio Novarex di Martellago in provincia di Venezia ed è anche il responsabile del gruppo Made In di Confindustria Venezia. Il gruppo Made In, lui è il coordinatore, è un gruppo di lavoro impegnato sui temi della lotta alla contraffazione, in particolare alla promozione della cultura della legalità anche nell'acquisto. Detto ciò partiamo dai dati aziendali. Dati aziendali che anche quest'anno sono stati positivi. Si parla di un 4% di fatturato, una redditività indicativamente del 5%, un fatturato più o meno di 12 milioni di euro. Diciamo tutto questo perché ciò si traduce anche in nuove linee produttive e posti di lavoro. Sì, come ha detto lei effettivamente quest'anno abbiamo aumentato il fatturato anche se a livello percentuale non è importante ma a livello numerico è molto alto in quanto quest'anno dovremmo chiudere più o meno l'anno scorso sui 12 milioni di euro. Quindi l'incremento è abbastanza importante. Ci porta ad aprire altre due linee produttive per le richieste ovviamente di altri prodotti un po' diversi, sempre etichette autodesive però diciamo su delle linee di produzione diverse. L'incremento che è stato fatto non è stato fatto tanto nella quantità ma quanto nella qualità. Quindi abbiamo puntato diciamo l'anno scorso su una produzione di una qualità medio alta in modo da avere diciamo un reddito anche leggermente più alto e oltretutto prendere una fascia media alta anche di clientela. Cos'è l'etichetta oggi? Ma l'etichetta oggi praticamente è come dire è un decalogo cioè nel senso che quello che è scritto all'interno dell'etichetta dice tutto di quello che è all'interno diciamo del prodotto. Quindi abbiamo soprattutto doppie etichette, l'etichetta quella chiamiamola così dell'immagine, l'etichetta di quello che mostra il prodotto interno e poi abbiamo l'etichetta obbligatoria. Ormai l'etichetta obbligatoria è diventata un'etichetta importante perché chiaramente con le tabelle nutrizionali e con i stabilimenti di produzione e con i bollini che ci vanno delle marcature CEI e quant'altro, effettivamente è diventata una cosa che è indispensabile. Soprattutto con le nuove normative europee anche perché danno delle indicazioni molto importanti sull'altezza di caratteri e quindi perché chiaramente siano leggibili a tutti. Questo ovviamente ha portato anche un incremento diciamo della superficie dell'etichetta. Quindi questo ha un posto maggiore. Sono più grandi perché offrono più informazioni. Più informazioni, infatti se lei ha notato per esempio sul vino o piuttosto diciamo sulle bottiglie d'olio e dell'acqua, addirittura stampano sul retro perché le indicazioni sono talmente tante per cui davanti l'etichetta se non diventerebbe anche a livello ottico brutto da vedere, per cui sul retro si scrivono delle indicazioni che chiaramente sono obbligatorie. Lei è un imprenditore attento al sociale sia nella realtà di Madrid Lago che in quella più ampia veneziana. Quindi ha questa funzione anche di interconnessione fra gli imprenditori e i consumatori. Lei ha l'impressione che gli imprenditori abbiano maturato una cultura della tracciabilità o insomma in qualche maniera sopportino le normative di carattere nazionale ed europeo? Ma allora è chiaro che parliamo di veri imprenditori, quelli che si alzano la mattina e pensano che essi inventano qualcosa. Parliamo degli imprenditori. Allora tutti noi abbiamo l'interesse ovviamente, se parliamo del Medina, abbiamo l'interesse che il nostro prodotto che facciamo o commercializziamo o trasformiamo quello che facciamo chiaramente sia un prodotto di qualità. Cioè l'Italia ha delle eccellenze e queste noi le dobbiamo tutelare. E com'è che le dobbiamo tutelarle? Tutelando dando un servizio. Perché ormai non c'è niente da inventare. Quello che oggi è importante è il servizio. Il servizio che cosa viene dato? Il servizio viene dato chiaramente dalla qualità del prodotto, dalla tracciabilità del prodotto. Quindi più cose che io ti do, va bene, e più chiaramente riesco a portarmi a casa da una clientela, chiaramente di un certo livello. Adesso per esempio avrà letto che soprattutto nel settore alimentare il monomarca sta andando via tantissimo. Infatti ha aumentato circa il 7-8% le vendite. Perché questo? Perché la gente vede il nome del supermercato, il nome dell'azienda, chiamiamola così, non voglio fare nomi, che chiaramente va dentro, che entra su questo supermercato e acquista il prodotto del supermercato. Private label. Precisamente. Perché? Perché gli dà più fiducia. Che poi il prodotto del tutto di noi è uguale. I supermercati ovviamente lo fanno fare ad aziende. Precisamente. Però pensano, ma è anche vero, che si rivolgano ad aziende certificate. Certo, voglio dire, l'educazione alla lettura dell'etichetta aiuta anche in questo. Perché se uno legge l'etichetta e vede il luogo di produzione, si accorge che spesso il prodotto è quello, cambia solo il packaging e il modo di presentarlo. In qualche maniera abbiamo introdotto i temi del Made In. Voi a Venezia avete fatto iniziative di sensibilizzazione, soprattutto verso gli studenti. Se non vado errato, mi pare tra fine febbraio e marzo ci sarà una riunione nazionale del gruppo di lavoro Made In proprio a Venezia. Ecco, in ambito nazionale cosa rappresenta Venezia nella lotta alla contraffazione? È un po', voglio dire, una sorta di laboratorio, visto che i prodotti veneziani sono tra i più caroccati al mondo. Beh, allora, tanto mettiamo di numeri e così ci rendiamo conto di cosa parliamo. Parliamo di praticamente una contraffazione che adesso si aggira sui 7 miliardi, perdendo 100 mila posti di lavoro. Cioè, questa è la dice lunga, no? A livello nazionale. A livello nazionale. Quindi noi dobbiamo, che poi, voglio dire una cosa, che rispetto all'anno precedente è aumentata, quindi ancora più grave la cosa. Poi, rispetto agli altri anni, si è allarcata in un mercato che è l'e-commerce. E quindi, voglio dire, è diventata proprio un'industria. Fa del marketing, praticamente, quindi va dove? Dove che chiaramente c'è più richiesta. Questo è preoccupante. È preoccupante per i posti di lavoro, ma non è solamente i 7 miliardi, no? È perché qui i 7 miliardi vorrebbero dire 100 mila posti di lavoro, quindi vorrebbero 100 mila stipendi, i quali vanno a spendere dei soldini e quindi, chiaramente, sono dei moltiplicatori. Poi, un'altra cosa, cioè, quindi noi, a livello, diciamo, Confindustria, che facciamo parte del CNAC, e siamo... La Commissione Nazionale Anticontrafazione. La Commissione Nazionale Anticontrafazione. Dobbiamo fare, così, da controllori, chiamiamolo così, che le normative, soprattutto europee, siano, diciamo, non dico restrittive, ma comunque giuste, chiamiamole così, per i nostri associati. Perché è chiaro che se io produco un... mettiamo una scarpa, e mi dicono che l'ultima lavorazione, va bene, che supera la percentuale del valore della scarpa, da il posto dove è stata prodotta, vuol dire che se io acquisto un prodotto, che... cioè, vendo un prodotto, che costa 100, però la maggior parte di quel 100, va bene, viene prodotta in Italia, posso scrivere Made In. Magari Made In Italy. Magari l'ho fatta fare in Cina. Questo è fondamentale. Cioè... Ad oggi basta che l'ultima parte del processo produttivo sia stata fatta in Italia per diventare Made In Italy. Made In Italy. Adesso vi faccio un esempio. Per esempio, chi non firma questi trattati è la Germania. E allora tutti si chiedono, ma perché la Germania non firma un trattato? La Germania. Perché? Perché, per esempio, il discorso delle autovetture, le marche più diffuse delle autovetture tedesche, il 60% dei prodotti che è all'interno della macchina sono italiani. Quindi non è una macchina tedesca, è una macchina italiana. E quindi questo chiaramente... Ecco, come riuscire però a risolvere queste questioni che sono oltre la nostra capacità di consumatori? Perché noi possiamo anche evitare di comprare la borsa griffata dal venditore abusivo. Ma qua mi pare che le dimensioni siano diverse. Appunto, essendo che le dimensioni sono diverse, sono diverse commissioni all'interno delle comunità europee. E noi non è che abbiamo molta forza. E sebbene che abbiamo 12 ministeri comunque che lavorano sotto il CNAC, quindi che devo dire la verità che oltretutto sono molto attivi, però effettivamente siamo abbastanza deboli su questo. Sebbene che cerchiamo di, chiaramente, di portare a casa, soprattutto sul settore moda, cerchiamo di portare a casa abbastanza cose. Adesso vedremo, dopo le elezioni, vedremo un momentino come saranno le quote all'interno delle commissioni durante le votazioni. Ecco, concluderei con una domanda all'imprenditore, Bruno Martino. In altre nostre conversazioni, con onestà intellettuale, ha sempre ricordato che l'etichetta, l'etichetta che fate voi in particolare, che è un'etichetta di largo consumo, è riuscita a crescere anche nei momenti di difficoltà e di crisi economica, perché bene o male, alla fine, mangiare si deve. Ed è per arrivare a chiedere, come vede la situazione economica in questo momento, visto che forse è meno preoccupato della congiuntura di altri settori. Allora, se devo guardare il mio settore, come giustamente dice lei, vabbè, insomma, la gente mangerà, andrà a prendere discount, invece che andare a prendere il supermercato, non consumerà di champi o delle creme, ma prenderà... I primi prezzi, però c'è sempre bisogno dell'etichetta. I primi prezzi di pollo o coniglio, però sempre bisogna dell'etichetta anno. Questo per quello che riguarda... Quindi non mi preoccupo per la mia azienda, mi preoccupo chiaramente per tutto quello che può essere il mercato degli altri colleghi su altri settori. Cioè non la vede rosea? Cioè diciamo che stiamo alla finestra, anche perché finora non è stato fatto in nulla, anzi è stato tolto più che fatto, insomma, quindi vediamo cosa verrà fuori tra qualche mese. È stato chiaro. Grazie a Bruno Martino, che ricordo essere il presidente dell'etichettificio Novarex di Martellago in provincia di Venezia, etichettificio che ha chiuso il bilancio 2018 con buoni riscontri produttivi. Ricordiamo un 4%, un più 4% di fatturato, un 5% di redditività, un fatturato attorno ai 12 milioni di euro. è importante ricordarlo perché questo nel 2019 si tramuterà anche in nuovi posti di lavoro. Lui è anche il coordinatore del gruppo Made In, gruppo che si dedica alla promozione della cultura, della legalità nel commercio di Confindustria Venezia. Grazie, buon lavoro. Grazie a te. Alla prossima. Grazie. 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 Grazie a tutti.